il profumo e il colore di una candela dona vitalità in embriante alla casa realizzate una candela scegliendo la vostra profumazione preferita oggi realizzeremo la candela dello spirito il materiale che ci occorre un barattolo di vetro del filo di cotone un ago tappo di sughero un taglierino oli profumati olio e acqua prendete un tappo di sughero e con l'aiuto di un ago bucate al centro per tutta la lunghezza del tappo una volta fatto il buco tagliato il vostro tappo con il taglierino a metà fate passare l'ago con il filo di cotone attraverso il buco del tappo prendete l'acqua e riempite più o meno a metà il vostro barattolo adesso aggiungete all'acqua qualche goccia di olio profumato versate uno strato di olio nel barattolo staccate l'ago dal filo adesso immergete la parte più lunga del cotone nel barattolo attendete qualche minuto e con l'aiuto di un adulto accendete la parte restante del cotone ed ecco pronta la candela dello spirito